Istituito il diveto di avvicinamento anche ai soli fini fotografici su tutta la strada comunale in via Renzo Sciore, la panoramica bassa, anche ai residenti. Lo prevede un'ordinanza emessa nella giornata di ieri da sindaco di Villalago, Fernando Gatta, all'indomani dell'assembramento di curiosi che si sono riversati strada nei giorni scorsi per immortalare Mamma Orsa con i suoi quattro cuccioli. Un'immagine più unica che rara, c'è poco da dire, ma il primo cittadino è inteso adottare provvedimento per tutelare plantigradi e persone, tenendo conto anche delle misure del post-emergenza pandemica. Con l'ordinanza è istituito il diveto di transito assoluto, sia veicolare che pedonale, lungo la pista forestale che collega l'abitato di Villalago, con le località a macchia di rose, ad esclusione di residenti e delle ditte specificatamente autorizzate per ragioni di lavoro. E' istituito il diveto di circolazione e transito assoluto, sia veicolare che pedonale, a eccezione dei mezzi autorizzati per ragioni di lavoro lungo la strada panoramica. E' istituito il diveto di circolazione e transito pedonale carrabile lungo la strada denominata Sciore-Renzo, a eccezione dei residenti e dei dimoranti di Villalago, la panoramica bassa. Poi il passaggio delle foto, ovvero il diveto di avvicinamento, anche soli fini fotografici, su tutta la strada comunale in via Renzo Sciore, anche i residenti. Comeppure non è consentito avvicinarsi agli orsi, a piedi, in auto o con qualunque mezzo, a una distanza inferiore ai 300 metri. Il sindaco Gatta aveva sottolineato il comportamento corretto e responsabile dei cittadini di Villalago, con l'ordinanza si adottano solo le dovute precauzioni.